Ha dei problemi perché prende tantissimi dolli, sicuramente. Questa è una tua opinione che è vicina anche ad alcuni, prima l'ho sentito, questo discorso dei gol. Poi prima il discorso di scendere in campo senza motivazioni perché ormai il campionato ha perso di interesse. Io penso quando vado a vedere la Roma e voglio vedere una bella Roma, soprattutto vado allo stadio per vedere un bel calcio, non tanto per vincere il campionato. Certo, per il momento la Roma ha un comportamento un po' anomalo, secondo me, però ha alternato sicuramente delle belle prestazioni e un paio di prestazioni dei studenti, almeno in campionato. Senti, come ti è venuto in mente l'inno sulla Roma? Su, stai sugli spazi. No, io ho scritto la prima canzone quando avevo soltanto 18 anni, adesso ne ho 24. La prima canzone del secondo lato è Forza Roma. Questa che state ascoltando è Cuore giallo rosso, invece è la canzone che dà il titolo all'album e l'ho scritta circa tre anni fa. E' nata, diciamo, nell'aria c'era questa idea di fare questo disco, però quest'estate ho avuto la possibilità, l'ho prodotto da solo, insieme ad alcuni amici, tra cui il promoter, non l'ho prodotto lui, però mi hanno dato una mano, mi hanno dato una mano tantissime persone, soprattutto i club giallorossi, infatti vorrei ringraziare Aldo Sbaffo, il presidente, il vicepresidente Fausto Iosa, e tutti, anche il club penestino, il club dell'Atac, e tantissimi, insomma, ecco. Bene, Albonello De Pierro, Cuore giallorosso è il titolo dell'album e quindi anche della cassetta? Sì, certo. Della cassetta, che si trova chiaramente nelle astroteche. Sì, si trova nei negozi e anche presso i club giallorossi. Sei tifoso dell'Aroma di sempre, tu di dove sei? Io sono nato a Roma, però ho vissuto in tutta Italia, allora forse dall'accento, vedete? L'accento è? L'accento è, mi dicono marchigiano, però io nelle Marche non ho mai vissuto, ho fatto soltanto il carro durante il servizio militare a peso, perciò non penso che in un mese si possa... Complimenti, state sentendo alcune note, probabilmente se andate a comprare ve la sentite tutta sicuramente, e poi avrete modo anche, magari lo stadio la mandano in onda. Sì, anche, no, lo stadio non la mandano in onda, però ci sono delle ragazze che ho messo a posta... Che fanno, la cantano? No, che vendono questa cassetta con lo stereo, insomma, è stata un'iniziativa un po' particolare. Ma guarda un po', questa è stata delle passioni, di gente che fa le cose con grande passione, e solo se uno la fa con grande passione così riesce. Complimenti, grazie. Complimenti, l'applauso è spontaneo. Grazie.